Manuela Vigilante è il nome che ha messo tutti d'accordo. Dovrebbe essere lei la candidata a sindaco di Termoli. Avvocato, consigliere comunale e portavoce delle donne DEM del Molise, sulla Vigilante sarebbe stata trovata anche la quadra con il Movimento 5 Stelle. Questo è quanto è emerso nel corso dell'incontro che si è svolto nella giornata di ieri. Non c'è ancora l'ufficialità da parte del PD, ma salvo colpi di scena sarà lei la candidata sindaca. Se tutto rimane invariato, i suoi sfidanti saranno Nico Balice, Daniele De Caro, Marcella Stumpo, Andrea Montesanto e Gio Mileti.